Dopo che si sono spese decine e decine di milioni e per la prima volta la spesa rispetto allo stanziamento iniziale non è lievitata, non cogliere questo obiettivo sembra veramente uno scherno per la città di Pescara e di Montesilvano. La filovia sulla strada parco si farà. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Regione Abruzzo, comuni di Pescara e Montesilvano e società di trasporto pubblico, consentendo di riaprire il cantiere. A settembre scorso infatti il TAR aveva accolto il ricorso del Comitato Strada Parco Benecomune, da sempre contrario al progetto, sospendendo il provvedimento del Ministero dei Trasporti con il quale si autorizzava il passaggio del filobus sull'ex tracciato ferroviario. Non ci sono le condizioni tali da sospendere i lavori, questo è il giudizio del Tribunale Amministrativo. Le vicende giudiziarie stanno da anni e anni causando sistematici rallentamenti rispetto ad un'opera che l'amministrazione aveva scelto, che per una serie di incidenti non dovuti all'amministrazione stessa hanno protratto nel tempo quest'opera e siamo arrivati alla fine. Ci sono i pareri di tutti, dico tutti quanti, quelli che sono i livelli di interlocuzione. Continuare sulla strada della gestione vischiosa con sistematici ricorsi credo che sia un errore macroscopico. Intanto da gennaio sulla Strada Parco ci saranno già i primi mezzi. Si tratta di cinque bus elettrici consegnati alla tua dal Comune di Pescara. Manca la formalizzazione del progetto nel quale sarà stabilita la data di partenza, ma le amministrazioni di Montesilvano e del capoluogo adriatico hanno già dato parere favorevole. Per quello che riguarda la tua noi siamo pronti, abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare. Ci saranno pochissime fermate e faranno riferimento a quelle già a norma e quindi oggettivamente non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema se non quello di velocizzare e dimostrare che il passaggio tra Montesilvano e Pescara può essere fatto in tempi assolutamente ridotti e con un inquinamento prossimo allo zero.